se mi porti la pelle dell'orso gli do 600 mila lire ma se torni a mani vuote lavori per me un anno prepara i soldi per pazzo perché lo hai portato qua sto cercando perché vuole che torni a casa cosa guardi vei solo acqua tu sembri anche mio figlio mi ha dato la sun o trepasso a a a a